Cambiano le regioni, le province, le città, ma i diritti sono sempre gli stessi. Un concetto semplice, ma che la FLC-CGL, Federazione dei Lavoratori della Conoscenza, tiene a ribadire con fermezza un viaggio attraverso il paese per ribadire che il diritto all'istruzione è garantito costituzionalmente e non vi possono essere deroghe. La conoscenza non si spezza, slogan a dir poco eloquente. Dopo aver attraversato le regioni del nord e del centro Italia, il camper ha cominciato proprio oggi il suo tour al sud. Prima tappa a Pescara, Pino Lafratta, segretario generale della FLC-CGL, Abruzzo Molise. Noi pensiamo che la scuola unisce il paese e quindi siamo assolutamente contrari a questo progetto scellerato al nostro modo di vedere di autonomia differenziata. La scuola potrebbe essere uno dei settori più toccati, una scuola regionale, programmi regionali, concorsi regionali, organici regionali e anche stipendi che si diversificano in base alle regioni sono l'ultima cosa di cui il nostro paese ha bisogno. Sono altri i problemi della scuola, investimenti, risorse, contratti organici, stabilizzazioni dei precari. E noi chiediamo anche a quelli che si candidano a governare questa regione di prendere in considerazione i veri problemi della regione e quindi dire no insieme a noi a questa riforma. Quali sono le vostre proposte? Riteniamo che sia necessario invece affrontare i veri temi nodali. Il primo è quello del precariato. Abbiamo 6.000 precari in questa regione ed è il caso di iniziare un'opera di stabilizzazione per dare continuità didattica. Pensiamo al sostegno. Abbiamo 3.000 docenti precari sul sostegno. È una cosa che non è decorosa in un sistema civile. Poi abbiamo un tema importante sugli organici. Abbiamo uno spopolamento molto rilevante. Noi pensiamo che perdiamo mediamente 1.500-1.600 alunni all'anno. Questo vuol dire anche emigrazione, mancanza di risposte da parte dei giovani. E a questo non si può reagire solo con i tagli. In Abruzzo il camper della carovana dei diritti farà tappa domani 29 febbraio a Roseto e a Teramo. Il primo marzo ad Avezzano e L'Aquila. Il due a Sulmona e a Chieti. Il tre marzo a Guardia Grele e a Lanciano. Il quattro a Basto. Miriam Del Biondo, segretaria generale FLC, CGL L'Aquila. Si rischia di arrivare a un'istruzione di serie A e un'istruzione di serie B? Assolutamente sì, perché questo poi dipenderà dalle risorse delle regioni. Quindi a regione con minori risorse corrisponderà un'istruzione con meno risorse, con stipendi anche differenziati per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici della scuola, con chiaramente una grossa ricaduta sulla qualità dell'insegnamento e quindi sulla qualità della formazione dei cittadini e delle cittadine italiane.